L'Assemblea dei Soci di Arezzo Fiere Congressi lo scorso martedì aveva approvato il piano che prevede l'accessione delle fiere Orafei Egg, il primo passo verso un'unica organizzazione per le manifestazioni del settore, un voto a larghissima maggioranza nel quale ci sono stati solo 5 astenuti, tra i quali la provincia e Confcommercio. Noi abbiamo ritenuto che al di là del fattore positivo, insomma io credo, ho dato sempre un giudizio positivo, anche largamente positivo dell'accordo che il Consiglio di Amministrazione con il suo Presidente aveva fatto. Certo è che avessimo avuto un po' più di tempo a disposizione, avessimo potuto leggere meglio le carte, magari avessimo potuto introdurre anche degli elementi che rafforzavano la posizione di Arezzo, sarebbe stato meglio e probabilmente ci avrebbero messo in condizioni anche di esprimere non l'astenzione ma il voto a favore. Devo dire che il lato positivo è anche perché probabilmente se non avessimo fatto questo accordo io la vedevo nera per l'avvenire del centro affari, insomma non ci vedevo elementi positivi per il futuro. Perché la vostra assenzione? Perché non conosciamo bene il contratto, perché parte da angolazioni diverse di interessi. Ci sono interessi da difendere che sono quelli delle utenze del centro affari, di tutti coloro che ci lavorano, degli alberghi, dei ristoranti, di tutte le attività che comunque hanno basato un po' del loro fatturato su questo grande Arezzo Fiere. E' per loro che abbiamo chiesto con oculatezza informazioni e siamo stati anche pignoli nel cercare di apprendere notizie. E' per loro che volevamo capire bene e per tutti noi della nostra città che vogliamo appunto ancora conoscere di più.